potrebbe esserci un nuovo giallo a trento bene ragazzi ciao a tutti e bentornati sul canale di saturn 5 per un nuovo video destinato alla playlist dei gialli parliamo di maria antonietta panico o panico che dir si voglia chi è maria antonietta è una giovane donna di 42 anni di trento molto impegnata da un punto di vista lavorativo molto estroversa con diversi contatti sociali impegnata anche tra l'altro sul fronte politico per fortuna verso il centro destra ebbene proprio ieri mercoledì 17 gennaio 2024 alle 11 di mattina circa è stata trovata morta distesa sul letto a pancia in giù dal suo ex marito che cosa è successo la figlia di appunto maria antonietta figlia anche delle ex marito una ragazza di 16 anni era da un paio di giorni che non riusciva più a mettersi in contatto con la mamma allora parla con il papà e dice papà guarda qui è meglio che tu vada a dare un occhio per chi non riesco più a rintracciare la mamma allora il marito l'ex marito proprio ieri mattina parte in compagnia di un suo amico si reca dalla casa della ex moglie e la trova purtroppo distesa a pancia in giù sul letto da una prima occhiata non risultano ferite d'arma da taglio non risultano lividi l'unica cosa che si è notato è la presenza sul letto di alcune macchie che inizialmente sono state prese per macchie di sangue ma che poi successivamente si sono verificate liquidi di tipo somatico non si capisce ancora bene di che natura chiaramente l'ex marito chiama immediatamente le forze dell'ordine arriva anche il medico legale anche egli ha osservato che da un primo esame adesso è attualmente ancora in corso l'autopsia si sta cercando di capire quali sono le cause della morte ma apparentemente la donna non presenta diciamo ferite da arma da taglio oppure lividi o segni di contusione la donna dice il medico legale si trova già in un abbastanza avanzato stato di decomposizione mi sembra un pochettino strano questa cosa dice la morte l'attribuisce a due tre giorni prima quindi si parla fra domenica e lunedì trascorsi l'elevata temperatura dentro la camera da letto in quanto appunto i termosifoni erano evidentemente a palla ha accelerato anche un po questa prima fase di decomposizione del cadavere non sono stati trovati oggetti particolari nella camera da letto se non un po di bottiglie di alcolici vuote ora si può trattare naturalmente di un malore si può trattare anche si ipotizza anche un eventuale suicidio ma si ipotizza eventualmente anche un omicidio in questo caso ragazzi parleremo dell'ennesimo femminicidio femminicidi di cui in questi ultimi anni abbiamo sentito parlare direi addirittura troppo perdonatemi la piccola parentesi a tal proposito io ho già l'ho detto chiaramente in un video se fossi io in politica una proposta di legge che farai è da introdurre nel codice penale e l'aggravante femminicidio e cioè nel caso di un uomo che ammazza una donna si becca una pena normale e relativa all'omicidio con un aggravante femminicidio che di per sé potrebbe essere quantificabile in un più 10 15 per cento della pena spero mi auguro che un domani passi questa legge chiusa la parentesi allora dicevamo maria antonietta era una donna molto estroversa con diversi contatti sociali molto impegnata sul lavoro effettivamente pare che negli ultimi giorni si fosse isolata e abbia diciamo trascurato un po qualunque tipo di contatto si parla anche del suo ultimo ex compagno sul quale subito sono iniziati a gravare un po di sospetti in quanto pare che tanto per cambiare sia l'ennesimo esempio di uomo violento tanto è vero che gli è già stato ordinato di non avvicinarsi alla donna quindi ha avuto un divieto di avvicinamento un po di tempo addietro non solo ma pare che la donna abbia dovuto diverse volte recarsi anche in ospedale per dei traumi cranici molto probabilmente causati appunto da questo ex compagno quindi purtroppo questa triste notizia è appena accaduta l'abbiamo saputa ieri mattina alle ore 11 l'ex marito ha scoperto appunto il cadavere di maria antonietta si stanno valutando tutte le ipotesi si sta controllando anche il telefono di maria antonietta le ultime chiamate ricevute inviate anche la messaggistica privata per cercare di capire con chi poco prima di morire negli ultimi giorni quantomeno era in contatto molto bene ragazzi staremo adesso a vedere come si evolverà questo caso se sarà se si tratterà di un giallo o meno e come di consueto al prossimo aggiornamento ciao ciao